Siamo nel salone del Rifugio Porta, costruito dalla sezione CAI di Milano nel 1911. Un cortometraggio sulla storia del Rifugio Porta è diventato virale su internet. Come è nato questo video? Questo è un progetto che è nato circa 3-4 anni fa, individuando nel Rifugio Porta una storia incredibile, una storia che parla di alpinismo. Il Rifugio Porta è nato agli inizi del 1900, nel 1911, in un momento che la situazione lombarda era in forte espansione, sia industriale che tecnologica. Questo trailer era nato per andare a proporre e cercare finanziamenti su un progetto molto più grande, quindi era ad uso commerciale per cercare fondi per il lungometraggio che ha bisogno, essendo in costume, di parecchie risorse. Un appello a chiunque volesse promuovere questo film e ricontattarvi? Parlare del Rifugio Porta vuol dire parlare delle nostre montagne, vuol dire parlare di Milano, vuol dire parlare degli inizi dell'alpinismo in Lombardia. Le famiglie nobili di Milano, Branca, Oepli, Campari, Motta, hanno messo dei soldi per costruire questo prestigioso rifugio. In questo rifugio ci sono tante storie interessanti che, pur essendo un periodo poco narrato, è comunque arrivato ai giorni nostri in una gloriosa vita di alpinismo ai pieni di Resinelli.